Film molto bello, molto bello, toccante, fatto molto bene, il suo film è bravissimo e inaspettato, quindi tutto bene. Mi ha colpito la delicatezza con cui ha trattato un argomento così pesante. Ovviamente lasciando le parti pesanti e il messaggio che voleva trasmettere, perché è stato bravissimo, tutto toccato con quella delicatezza che ha da lì, da lì.